E siamo a Salute Sostenibile, la salute che possiamo tutelare a costi accessibili per tutti grazie al progetto sociale che realizziamo insieme con Diagnostica Cavallo e con i medici specialisti del team che indicano le diagnosi e le cure delle malattie, ai costi più bassi ma sempre in alta qualità. Al centro della nostra attenzione questa settimana è il tumore al seno, per parlarne con noi Giuseppina Lanzetta, medico oncologo senologo e membro ovviamente del team di Diagnostica Cavallo. Il centro presso il quale, lo ricordiamo come per tutte le patologie inserite nel panel polispecialistico, è possibile iscriversi gratuitamente con l'apposito modello di Salute Sostenibile per poi essere richiamati per una visita specialistica a basso posto, così come prevede il progetto sociale di cui stiamo parlando nel nostro segmento Salute Sostenibile. Dunque dicevamo il tumore al seno, la seconda malattia per cui si rischia di morire di più se non si è tempisti nella prevenzione. Colpisce soprattutto le donne, raramente gli uomini, non se ne conosce ancora l'eziologia, cioè le cause che innescano il tumore al seno, ma sembra che gli ormoni giochino un fattore importante nella formazione di questo tumore, anche se non si comprende bene ancora come questo possa avvenire. Dottoressa Lanzetta, qual è la parola d'ordine, l'obiettivo di ogni donna per prevenire questo rischio? Quello di tutelare la propria salute, in modo particolare la ghiandola mammaria, che sappiamo essere ancora il tumore più frequente nella popolazione femminile, secondo in assoluto dopo il tumore polmonare. Attualmente in Italia abbiamo circa 300 mila donne che combattono col tumore della mammella, 33 mila nuovi casi di tumore alla mammella all'anno in Italia, con 11 mila, purtroppo, decessi all'anno. Quindi una donna su tre, proprio perché non sembra che arriva la diagnosi precoce, purtroppo ha una prognosi in fausta. Il tumore della mammella, sappiamo tutti, che colpisce breve e lentamente il quadrante superesterno della mammella. Immaginiamoci la ghiandola mammaria come un orologio diviso in quattro quadranti, più una parte centrale comprendendo il complesso areola capezzolo. Il 50% dei tumori della mammella colpisce il quadrante superesterno, il 20% l'area centrale retroareolare e il 10% ogni quadrante. Quali sono i tumori del seno e quali quelli più frequenti? Fondamentalmente i tumori della mammella sono vari, però i più frequenti sono il carcinoma duttale infiltrante e il carcinoma lobulare. Il carcinoma duttale e il carcinoma lobbare entrambi possono essere infiltranti, cioè invasivi o non infiltranti in situ. Chiaramente la diagnosi precoce, ecco, che noi auspichiamo tutte le donne che comincino a fare dall'età di 25 anni in poi, età in cui è preferibile fare un primo controllo clinico almeno una volta all'anno, la diagnosi precoce ci permette di indovare, di scovare tutti i tumori piccoli, quelli al di sotto di un centimetro di diametro che poi la scienza e l'oncologia ci diranno poi che sono quelli a prognosi migliore. Abbiamo detto in apertura che di fronte a questi rischi è strategica la prevenzione, come si fa, cosa deve fare la donna? La prevenzione deve partire dalla donna, consigliata in genere dal medico curante con un'autopalpazione all'anno che viene effettuata con una tecnica particolare che va fatta almeno una volta al mese, va fatta generalmente una volta al mese nelle donne che hanno il ciclo dopo il flusso mestruale quando la mammella è deconcessa, nelle donne in menopause indipendentemente chiaramente dal ciclo che non è più presente. L'autopalpazione in genere si effettua da seduta e in una posizione orizzontale, soprattutto è molto importante l'osservazione che la donna deve fare allo specchio dove deve esaminare le eventuali impostature cutanee, la ritrazione del capezzolo, eventuali edemi, i temi, l'aumento di volume della mammella, tutti i fattori che devono portare la donna non ad allarmarsi ma certamente a consultare il medico curante in primo momento e eventualmente direttamente andare a eseguire una mammografia e poi chiaramente il medico che si occupa di tale patologie. Sappiamo che la mammella è un poco terra di tutti, di vari specialisti, credo però che noi oncologi siamo poco le figure più indicate perché chiaramente possiamo seguire la paziente prima nella clinica e poi affidare eventualmente al collega chirurgo la paziente che deve andare purtroppo al tavolo operatorio. Oggi con le attuali tecniche di imaging, quindi con la mammografia, quella digitale, che dà una sovrisposizione minore, quindi una più bassa dose di radiazione alla donna, noi siamo in grado anche di andare a indovare nel parenghima mammario, semmai un parenghima mammario ghiandolare, anche tumori molto piccoli, tumori al di sotto del centimetro e anche qualche volta riusciamo a avere tumori di 5-6 mm. Tutto ciò chiaramente non fa altro che deporre bene per il prosieguo poi che è terapeutico, per quello che poi la donna dovrà affrontare come percorso chiaramente terapeutico. Ricordiamo che tutti i video di salute sostenibile si possono rivedere andando su internet su laboratoriocavallo.it dove si trova anche il modulo di cui vi abbiamo già parlato, su cui iscrivervi gratuitamente alla checklist di diagnostica cavallo per essere poi ricontattati voi o un vostro congiunto per una visita specialistica di qualità ma low cost a Salerno. Grazie.